Sono Carmelo D'Imprima, sono l'amministratore delegato della Madi Fruit SRL. Mi chiamo Adriana D'Imprima, sono l'amministratrice di Tenuta Donna Fina, azienda agricola che produce attraverso Madi Fruit le arancette rocco filiera qualità Carrefour. La nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare, le aranze tarocco filiera qualità Carrefour vengono prodotte secondo le norme di produzione di difesa integrata, vengono utilizzate al minimo le sostanze chimiche e vengono tutelati gli insetti utili per avere un prodotto così di qualità superiore. Abbiamo fatto la scelta della filiera qualità Carrefour perché condividiamo le stesse idee, ovvero il rispetto dell'ambiente, la biodiversità e la tradizione del nostro prodotto. Un prodotto che è un orgoglio della nostra terra, che si trova solo nella nostra zona e si distingue per resensucco, per gradibrix, per sapore e soprattutto per la colorazione che è una caratteristica delle arancette rocco filiera qualità Carrefour.